Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare del duplice omicidio. Domani alle 21 una fiaccolata promossa da Pronto Donna e dalla quartiere di Porta del Foro in memoria di Sara Ruschi e di Brunetta Ridolfi. Ad aderire anche il gruppo consigliare Ora Ghinelli 2025 e l'associazione Ora, l'amministrazione, fanno sapere, si è attivata immediatamente rendendosi disponibile con i servizi sociali e con tutta la rete di protezione sociale per stare al fianco dei figli di Sara. E aderiscono anche le donne e gli uomini del comitato Orgoglio Amaranto. Ci sentiamo particolarmente coinvolti, fanno sapere dalla direttivo per un tema che scizza molto a cuore sul quale abbiamo spesso proposto eventi di sensibilizzazione e riflessione. E c'è stato nella notte ancora un altro furto in un esercizio commerciale, in questo caso in Valdichiana. Vediamo cosa è successo. Un gran tonso. Che ha pensato? Un temporale. Mi sono affacciata e invece la porta non sarà più. Sono entrati in azione attorno alle tre e mezzo di questa notte con un furgone rubato in un'officina meccanica. A poca distanza sono riusciti a sfondare l'entrata creandosi così un varco. Nelle mire della banda un negozio di elettronica tra Camucì e Terontola nel comune di Cortona. In azione tre malviventi tutti a volto coperto. Sì, hanno buttato giù la vetrata, la sala cinesca più la porta d'ingresso, quindi è stato totalmente distrutto l'ingresso. Usando il furgone rubato dall'autofficina? Certo. E poi è stato tutto ritrovato in mezzo alla strada. La banda è poi scappata a bordo di un'altra auto, una a punto, anche questa rubata nella stessa officina e poi abbandonata a poca distanza. Sul posto i carabinieri che stanno portando avanti le indagini, al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Resta ancora invece da quantificare il bottino. I miei colleghi stanno ancora finendo l'inventario, ma comunque più o meno è stato un bel furto. Lo stesso negozio era già stato oggetto di assalti in passato. Più o meno intorno a sei mesi fa abbiamo subito un altro furto nel punto vendita di Fogliano della Chiana, dove anche lì sono entrati con una macchina e hanno distrutto tutto. Questi furti lasciano tanto dispiacere e tanta rabbia dentro. A Montevarchi invece un 28enne è stato denunciato per rapine e ricettazione. L'uomo, approfittando di un momento di distrazione della titolare di un bar del centro storico, si è diretto verso la cassa. Ma la donna si è corta di quanto stava accadendo e si è precipitata dentro al locale. L'uomo così si è disfatto di centinaia di euro che aveva arraffato e l'ha spintonata contro un frigorifero, poi è scappato a piedi. La barista è stata soccorsa e medicata al pronto soccorso della gruccia, ha avuto una prognosi per lesioni lievissime. I carabinieri poi, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a rintracciare l'uomo che è stato trovato con l'aria furtiva, provento anche di altri furti messi a segno nei giorni precedenti. Per lui così è scattata la denuncia anche per ricettazione. E adesso ci spostiamo invece in Valtiberina, a Monterchi, dove questa mattina attorno alle 12.30 è stato investito un ciclista sul posto, i sanitari del 118, rimasto ferito, un uomo di 61 anni, trasferito con il Pegaso alle scotte di Siena in codice giallo. Per i rilievi sono poi intervenuti anche i carabinieri. Torniamo adesso in città. Il questore di Arezzo ha dato il benvenuto alla primo dirigente della Polizia di Stato, la dottoressa Angela Lauretta, che da oggi assume l'incarico di vicario del questore. Nata a Siracusa nel 1967, laureata in giurisprudenza e scienze politiche, e nei ruoli dirigenziali della Polizia di Stato dal 1988. Nel suo percorso professionale ha ricoperto prestigiosi incarichi. Lauretta sostituisce nell'incarico il vicario, la dottoressa Paola Liaci, destinata a Ravenna. Voltiamo pagina. Questa mattina è ripreso il viaggio della speranza nelle carceri toscane, organizzato da Nessuno Tocchi Caino ed è partito proprio da quello di San Benedetto. È iniziato ad Arezzo il viaggio dal titolo Nessuno Tocchi Caino all'interno degli istituti di pena della Toscana. Il viaggio della speranza nei carceri, organizzato da appunto l'associazione Nessuno Tocchi Caino, in collaborazione con le Camere Penali, parte proprio dal carcere di Arezzo. Visitare i carcerati, si legge, non è solo un'opera di misericordia, ha lo scopo anche di ascoltarli, verificare le loro condizioni di vita materiale e raccontarle, ma soprattutto infondere fiducia e speranza, dove rischia di prevalere sfiducia e disperazione, come testimonia il numero dei suicidi che anche in questo anno è aumentato giorno dopo giorno. Abbiamo potuto riscontrare un ottimo rapporto con la Polizia Penitenziaria, che poi non dimentichiamocelo è la figura professionale che è costantemente in contatto con il detenuto. E sono relativamente fortunati anche perché hanno un grande magistrato di sorveglianza, che è il dottor Bortolato. Certo, le condizioni strutturali del carcere, voi sapete che ci sono intere i padiglioni che devono essere ristrutturati, i lavori vanno avanti da più di dieci anni, si fermano, abbiamo visto anche a che punto stanno, c'è ancora molto da fare. Però, tolto questo, i detenuti sono aperti tutto il giorno. Certo, anche per gli spazi ristretti è difficile poter fare molte iniziative trattamentali. Il problema è che cosa aspetta queste persone fuori, perché in genere hanno pene brevi sotto i cinque anni e quindi la possibilità del reinserimento sociale. Ma questo è un problema nazionale. Abbiamo visto, ce l'ha fatto vedere l'ex sindaco di Arezzo, anche un edificio demaniale che potrebbe essere ceduto al comune, ristrutturato, e lì sì che si potrebbero organizzare iniziative trattamentali, anche di lavoro. Nel Parco delle Foreste Casentinesi è iniziata la progettazione condivisa. Vediamo di cosa si tratta. Una passeggiata progettante all'interno del Parco delle Foreste Casentinesi, alla quale ha preso parte, oltre all'ente parco, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, i Carabinieri Forestali e l'Unione dei Comuni Montani. L'obiettivo è quello di conciliare sicurezza idraulica e conservazione della biodiversità. È servita per condividere le modalità di intervento, per quanto riguarda i nostri interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua in gestione da effettuare nel corso dell'anno 2023. Quindi abbiamo fatto dei sopralluoghi nei corsi d'acqua previsti nel piano dell'attività 2023 nei comuni di Chiusi della Verna e di Poppi. A Chiusi della Verna abbiamo visionato dei tratti del torrente Corsalone, mentre invece nel comune di Poppi ci siamo concentrati su Badia Prataglia dove le manutenzioni riguarderanno soprattutto il posso d'isola che è un corso d'acqua che attraversa il centro abitato di Badia Prataglia. Dal momento che gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare sui corsi d'acqua in gestione al Consorzio riguarderanno due zone speciali di conservazione che sono quella dell'Alta Valle Santa e quella delle foreste di Camaldoli e Badia Prataglia parte dei quali di questi interventi ricade all'interno del Parco delle Foreste Casentinesi abbiamo condiviso appunto con questi enti, con queste figure gli interventi da effettuare durante questa annualità. Quindi abbiamo visionato gli interventi di manutenzione da effettuare, i singoli tagli laddove necessari, ripristino di alcune opere di difesa spondale in modo di andare ad effettuare degli interventi condivisi durante questa annualità. Oltre 42 mila euro di finanziamenti per i sei progetti dell'area di Arezzo vincitori del BAMDO siete presenti con i giovani per ripartire realizzato da Cesvot, finanziato da Regione Toscana in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovaniglia e il Servizio Civile Universale con il contributo di 11 fondazioni bancarie della Regione. Il BAMDO punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell'associazionismo toscano per dare forze ruolo ad una generazione nuova che sia capace di rinnovare la proposta del terzo settore, la sua capacità di eradicamento sul territorio, nonché di facilitare il ricambio generazionale all'interno delle organizzazioni. E all'ospedale San Donato di Arezzo invece questa mattina una donazione alla neonatologia. Tre lettini per la rianimazione neonatale e due monitor per la ventilazione del neonato che permettono all'operatore di seguire le operazioni di rianimazione e valutarne l'efficacia. Sono i dispositivi donati dalla USAID Rotary International agli ospedali di Arezzo, Grosseto e Nottola, una donazione che risale al 2021 in piena emergenza Covid. Siamo riusciti a dare a 10 unità di terapia intensiva della nostra regione delle apparecchiature che sono in assoluta vanguardia e avuti in un momento di crisi in cui il caos è Covid, la mortalità neonatale era aumentata, per cui abbiamo potuto intervenire dove realmente c'era un bisogno. Questa mattina, in occasione della sua visita in Italia, la responsabile della Rotary Foundation, la statunitense Tiffany Miller, ha fatto tappa all'ospedale di Arezzo, dove ha visitato il reparto di terapia intensiva neonatale. Qui si trovano due delle apparecchiature donate, un monitor e il lettino Live Start. Questo strumento è un sistema di rianimazione neonatale, ovvero un lettino ad altezza regolabile e mobile, quindi può essere trasportato, dotato di tutta la strumentazione necessaria per fare una rianimazione neonatale in sicurezza, quindi con un lettino riscaldato, con un flusso di aria ossigeno umidificato e riscaldato e con un timer per la tempistica della rianimazione. È nato questo strumento per fare una rianimazione neonatale vicino al letto della mamma, al letto operatorio, in un parto cesareo a cordone integro, ovvero senza recidere il cordone umbilicale, perché questo sappiamo essere un beneficio per il neonato. Fare questa manovra richiede un training importante di tutta l'equip che assiste il neonato, che in questo momento ancora noi stiamo apportando e quindi lo usiamo prevalentemente per l'assistenza dei neonati che per una qualsiasi ragione in emergenza nascono al di fuori della sala parto. La Fondazione Arezzo Comunità e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e del convitto nazionale del Comune di Arezzo hanno siglato l'accordo che dà vita alla progettazione legata ai patti educativi di comunità. Sono strumenti operativi introdotti recentemente dal Ministero dell'Istruzione per dare alle comunità l'occasione di rafforzare efficacemente non solo l'alleanza scuola-famiglia, ma anche quella tra scuola e comunità educante. L'accordo mira infatti ad incrementare l'offerta formativa delle scuole del primo ciclo di istruzione. L'obiettivo è quello di tenere le scuole aperte nei pomeriggi e in estate, offrendo maggiori occasioni di crescita ai ragazzi e alle ragazze grazie ad un programma di azioni che integrino e d'amplino le normali routine didattiche. E adesso parliamo di amici a quattro zampe, sono infatti tornati i mercatini di Leida. Siamo ripartiti con i nostri mercatini Leida per la raccolta fondi per i nostri amici del cuore a quattro zampe. Sicuramente ci potete trovare tutto il periodo di maggio, due volte al mese e a giugno due volte al mese. Sono ripartiti anche ad Arezzo i mercatini di Leida per la raccolta fondi a favore degli amici a quattro zampe. La raccolta fondi serve soprattutto per aiutare le colonie feline, per aiutare i rifugi e soprattutto anche le persone bisognose che non hanno la possibilità di pagare le spese veterinarie. Il problema più grande è quello di poter aiutare le responsabili delle colonie feline. Le responsabili delle colonie feline hanno un grande problema, quello di contenere le nascite. Quindi c'è necessità delle sterilizzazioni prima possibile. Non si può aspettare mesi per poter fare le sterilizzazioni. Ci deve essere più operatività anche dalla parte amministrativa e soprattutto ho sempre sostenuto che bisognerebbe fare anche degli accordi con dei veterinari privati. Da adesso poi anche la sezione di Arezzo Leida ha le sue guardie zoofile. Abbiamo avuto tutte le autorizzazioni, quindi noi siamo operative come guardie zoofile. Finalmente è stata molto sofferta questa attesa, ma è arrivata. Vinca il peggiore è il titolo dello spettacolo di arte varia presentato da Leonardo Pieraccioni in persona. L'appuntamento è per sabato 13 maggio alle 21 al Teatro Tenda. Grazie a Spettacoli Così, ha scritto Leonardo Pieraccioni sulla sua pagina Facebook, sono state costruite due scuole in Sierra Leone. Con questo show dove vincerà la peggiore esibizione, si gettano le fondamenta per un'altra scuola, sempre in Sierra Leone. E a Monte San Savino invece è pronta a tagliare il nastro alla prima edizione del Monte da Vivere, che sabato 29 aprile vedrà protagonisti, commercianti e pubblici esercizi del Centro Storico Cittadino. Si tratta di un format di successo già sperimentato dalla CovCommercio nel capoluogo di provincia e che adesso esporta in Baldichiano. E adesso parliamo del Mengo, l'evento che animerà l'estate di Aretina, dopo gli annunci di Salmo, Rosa Chemical, Bostel, Comacose, Love Gang 126, Collazio e The Zen Circus, adesso si aggiunge alla line-up un altro grande nome, i Planet Funk, che arriveranno sul palco di Parco Il Prato domenica 9 luglio. Un evento speciale che dunque aggiungerà un giorno in più al festival. Passiamo adesso alla pagina dello sport, la promozione è conquistata ma il campionato non è finito. Domenica la partita contro Tausi disputerà lo stadio Carraia con inizio alle 15. E proprio in previsione di un afflusso cospico di sostenitori sono stati messi a disposizione dei tifosi Amaranto e 538 biglietti per il settore ospiti. E dunque adesso andiamo a vedere la vittoria della scorsa domenica, ma da un'altra prospettiva dall'alto grazie alle immagini di Click & Fly. Amaranto, 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 Amaranto! Amaranto, 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 Amaranto! Amaranto, 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 Am Grazie a tutti. Dopo i festeggiamenti la società Maranto ha indetto una conferenza stampa per parlare del bilancio della stagione 2022-2023. Il giorno dopo il grande trionfo in campionato, Guglielmo Manzo, presidente dell'Arezzo, si presenta in conferenza stampa e annuncia alcune novità, una delle quali riguarda lo stadio, la casa Maranto. Sì, l'idea nostra è quella di presentare un project che ci permetta di arrivare nei tempi tecnici alla partenza dei lavori per lo stadio perché così ovviamente ieri c'è stata la dimostrazione, ora è vero che è stato l'apice però c'è stata la dimostrazione in cui ci siamo trovati ad avere un settore completamente vuoto, un altro, ieri probabilmente con lo stadio avremmo fatto 10.000 spettatori. Quindi l'idea, visto che la parte economica di un club passa anche per lo sfruttamento dello stadio a 360 gradi, noi presenteremo questo progetto nei tempi più brevi possibile e poterlo polarizzare in maniera più concreta. Federico Scapecchi, che ormai è un ultra affermato, ci parliamo di tutti i giorni ma poco ci manca. Avremo modo, sicuramente il nostro tecnico già sta dialogando con i tecnici del comune per la parte già in essere della concessione che abbiamo avuto e so che si sono fatti già una ghiacchiera preliminare per capire dove e come presentarlo, quindi sicuramente il comune ci sta vicino e sono contento su questo perché vuol dire che andiamo tutti nella stessa direzione. Poi c'è anche il centro sportivo, insomma i progetti si limitano allo stadio. Sì, lo stadio è dove giocheremo la domenica, dove cercheremo di rendere l'operativo durante la settimana e tutto, la casa dell'Arezzo per il futuro sarà a Rigutino, il centro sportivo è in piena ristrutturazione, sarà pronto sicuramente per luglio, per la partenza del ritiro, della prima squadra e le caselle stiamo ultimando i lavori che sarà la casa delle giovanili, quindi il club Arezzo Calcio avrà forse per la prima volta nella sua storia una struttura funzionale a 360 gradi e questo deve servire per portare sempre più indotto al club. Dice cosa ha provato, quell'applauso sotto la curva, quel grande abbraccio con tutto, quel muro di tifosi amaranti? Non so se sei visto, l'ho scoppiata a piangere, che l'emozione era troppa. È stato bellissimo, è stato qualcosa che volevo, l'ho dichiarato più volte che mi sarebbe piaciuto stare in mezzo a loro. Io ricordo a tutti, io sono stato un ultra del Napoli, ragazzi, per me è qualcosa di pazzesco non vederla dalla tribuna. Oggi, ieri sera è stato fantastico, stare lì sotto è stato veramente bello e negli occhi delle persone che abbiamo visto si è vista la gioia pura e quando si vede la gioia pura tutto il resto viene dimenticato. Poi io non sono uno rancoroso, sono una questionatamente schietta e diretta che difficilmente gira intorno alle cose, anzi forse a volte dovresti stare un po' più calmo però penso che il popolo Aretino stia capendo come sono fatto e io ho capito come sono fatti loro e quindi andremo avanti parecchio e bene. È stato un derby tutto Aretino, quello giocato lo scorso sabato e che ha visto prevalere il volley Arezzo e soccombere invece la polisportiva savinese nella decima giornata del girone playoff di Serie D. Passano in Serie C dunque le prime due classificate al termine del girone. Entrambe le formazioni sono state restie a cedere il passo all'avversario ma la qualità della difesa, orchestrata da Nocentini e i risultati di Chiappini e Catalani hanno mandato in confusione gli avversari facendoli cadere per 25-19, 25-22, 25-12 un punteggio dunque che lascia poco spazio all'interpretazione. La classifica vede dunque al primo posto Migliarino Volley con 25 punti al secondo invece Volley Arezzo con 20 punti. Il prossimo appuntamento è per il 22 aprile contro il Cascine Empoli, dunque fuori casa. Per quanto riguarda il rugby, invece domenica Arezzo ha ospitato il torneo di rugby Serboli che ha visto impegnati settori giovanili di squadre provenienti da tutta Italia con la partecipazione di circa 600 giovani atleti. Un ottimo test per il settore giovanile dei padroni di casa del Vasari Rugby che hanno messo a segno ottimi piazzamenti conformando il buon lavoro svolto dalla società nella crescita delle realtà giovanili da sempre fiore all'occhiello della squadra cittadina. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie Grazie Grazie